Io ne ho viste cose che voi umani non immaginate, ho visto puoi ingrati segnare all'ultimo minuto e ho visto rubare come non si era mai rubato. E tutto questo sparirà presto come una loffa, non ci sono più speranze, è tempo di rubare all'anime chi te è morta, chi te stramuerta.